Svolta nella gestione della Certosa di Trisulti, monumento nazionale, che si trova nel comune di Collepardo, a pochi chilometri da Frosinone, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ribalta la decisione del Tar e che estromette, dalla splendida abbazia sui Monti Ernici, la DHAI, l'associazione ultracattolica che fa capo all'ex braccio destro di Trump, Steve Bannon. Questi avrebbe voluto creare in Italia la scuola internazionale di sovranismo e soprattutto avrebbe voluto farlo in quell'antico luogo di culto. Ora si apre una nuova fase. Adesso viene il bello, viene forse il momento più impegnativo non solo per noi che viviamo lì sul territorio, nel nostro comune, ma anche per le istituzioni. Quindi penso ovviamente al Ministero dei Beni Culturali, che è titolare del bene, alla Regione Lazio. È necessario quindi che, secondo me, istituire quanto prima un tavolo di lavoro oppure una cabina di regia, come la vogliamo chiamare, in cui siano presenti, oltre che le istituzioni, anche le associazioni del territorio e tutti coloro che, non solo per quanto riguarda il mio comune, ma direi per tutta la ciociaria, abbiano a cuore il destino di questa certosa di disulti che, ricordo, è Monumento Nazionale. Credo che subito debba essere fatto un tavolo, convocato, credo, dall'amministrazione provinciale, con dentro la Curia, i rappresentanti anche cistercensi, le associazioni, per dare possibilità immediata di destinazione alla certosa. Conservando sempre l'aspetto religioso, ma non dimenticando che deve diventare una vetrina per tutto il territorio, e non solo, di attività culturali, di erboristeria, di mostre d'arte, di convegni, di rappresentanze, per cui ridare vita alla certosa significa, alla fine, ridare vita a tutto quanto il territorio, a tutto quanto il Lazio.